ma diciamo subito tutto allora la mia mamma è morta quando io sono nata io sono nata insieme a mia sorella due gemelline dello stesso uovo mio padre disperato non sapeva dove metterci la sorella di papà lei era praticamente sposata con Einstein e aveva una bella villa in campagna e due figlie molto carine e ha detto al papà ma portala qui portali qui e noi siamo quindi arrivate in una famiglia dove c'erano due figlie una più o meno la nostra età l'altra invece era già all'università quindi quello che noi giocavamo giocavamo con la piccola che si chiamava Anna Maria ma tutti la chiamavano Cici un ricordo di un paradiso proprio con un bisogno proprio di ringraziamento a questi genitori la mia mamma diciamo che era si chiamava Nina e Roberto che era Roberto Einstein altra figlia di azia Nina e di Robert si chiamava Luce e tutte e due sono morte sono morte fucilate insieme a tutta la famiglia la tragedia viene nel fior fiore della gioia veramente quando eravamo arrivata proprio a gioire della vita delle cose in una sera in cui invece solo noi due siamo potuti uscire dalla stanza del del dramma è stata una cosa incredibile non credibile questi bambini dopo abbiamo noi abbiamo sentito gli spari hanno stata chiamata è stata chiamata soltanto la famiglia dalla cuginetta i nazisti hanno chiamato la cuginetta per fucilare tutta la famiglia e noi due non siamo state fucilate perché 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 non eravamo Einstein non eravamo ebrei questo dramma terrificante non posso dirvi cosa si può sentire quando si esce da una stanza e si sentono gli spari che spari e sai che stanno sparando la tua famiglia da lì è nato una nuova vita è stata la fine di un mondo la fine del mondo